Bitcoin tenta una fase di respiro, fase di respiro complicata e assolutamente non scontata che potrebbe anche avere vita breve, proprio perché nella fine settimana aveva cercato di recuperare un po' quello che era successo la settimana scorsa che era stata abbastanza diciamo disastrosa, diciamo così, ma poi nella giornata di domenica tutto ritracciato e oggi up and down, quindi bump and dump classico, ma nulla di fatto bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ciao ragazzi, sono in viaggio, sono di nuovo in viaggio quindi faremo un video estremamente breve di recap, quindi Bitcoin Monday leggero nella giornata di oggi tutto racchiuso in pochissimi minuti, tutto quello che dobbiamo guardare proprio in questi giorni poi ci aggiorneremo meglio probabilmente nella giornata di mercoledì 10 di luglio allora intanto per partire il calendario economico della settimana, tutto concentrato nella giornata di giovedì 11 luglio, soprattutto per quanto riguarda le due e mezza l'uscita del dato legato ai prezzi, all'indice dei prezzi al consumo e quindi al tasso di inflazione previsto in fase discendente per quanto riguarda quello annuale e in fase stabile o leggermente crescente il mensile 3.1. Attenzione in questo caso dovessero esserci ribassi al di sotto di questo dato previsto quindi un 2.9 per esempio sarebbero visti in maniera estremamente positiva dal mercato al contrario invece rialzi maggiori del 3.1 di quanto previsto in termini di tasso di inflazione sarebbero visti come estremamente negativi dai dati che riguardano le attese dei ribassi dei tassi di interesse quindi del taglio dei tassi di interesse e non ci sono modifiche a questo dato quindi sostanzialmente tutto sembra essere come da attese quindi con un ribasso di tassi previsto il primo intorno a settembre. Sicuramente un livello inflattivo uguale al previsto oppure più basso darà maggiori conferme di questo primo taglio di un quarto di punto dei tassi di interesse della Federal Reserve che dovrebbe avvenire proprio nel mese di settembre. Per quanto riguarda invece la questione legata alla struttura ciclica di Bitcoin e all'analisi classica, insomma analisi tecnica di Bitcoin intanto andiamo a guardare quello che sostanzialmente è stato il dato sulla settimana scorsa che è stata veramente deleteria, una delle peggiori settimane degli ultimi mesi perché dal marzo del 2024 in pratica Bitcoin non ha mai fatto una settimana come quella precedente che ha chiuso con un meno 10.86 ma soprattutto è completamente rossa tranne una piccola shadow ribassista. In effetti ha cercato di recuperare poi nella parte finale quindi la candela settimanale che è appena iniziata nella giornata di oggi in pratica che lunedì sta semplicemente facendo questo tentativo di restare appesa diciamo a un piccolo livello di supporto che dovremmo comprendere appunto se riuscirà a resistere o meno. Allora l'arrivo a livello settimanale in mezzo a queste due livelli delle medie mobili è assolutamente una cosa corretta perché in pratica l'arrivo all'interno di queste due medie mobili configura una struttura di chiusura ciclica come quella che abbiamo visto già nell'agosto del 2023 che dovrebbe essere appunto la chiusura dei cicli di natura annuale quindi nulla di strano almeno fin tanto che regge la media mobile quella che vedete qui in un po' rosa che è la media mobile a 52 settimane. Quella media mobile infatti è un po' uno spartiacco e al di sotto di quel livello incomincia a scricchiolare proprio il trend rialzista che abbiamo visto iniziare dal novembre 2022. Quindi il tentativo di Bitcoin nelle prossime settimane sarà recuperare questo candelone settimanale che vi ripeto è il peggiore da marzo del 2024 quindi la peggiore settimana in termini di ribasso ed è anche quella che ha rotto il livello di supporto a 59-60 mila poi c'è l'altro livello di supporto che è l'area di 56 mila dollari che sta reggendo in questo caso. Andiamo invece a ragionare in termini di candele daily e di questioni cicliche. Allora qui c'è un po' di problematiche da un punto di vista ciclico perché abbiamo un probabile ciclo mensile di 30 giorni poi abbiamo una probabile struttura da 24 giorni che è un mensile cortissimo e poi abbiamo una fase qui che sta sviluppandosi. Ora o qui siamo in un ciclo anche questo da 24 giorni come vi accennavo nella scorso video che dovrebbe portare alla sua naturale conclusione circa intorno al 20 luglio prossimo quindi in pratica la prossima settimana e potrebbe anche con grande tranquillità continuare ad oscillare in up and down, in up and down, in up and down chiudere questo ciclo e poi ripartire da qui nulla di anomalo oppure c'è anche un'altra variante ciclica cioè l'idea che qui potremmo aver avuto un ciclo mensile normale da 35 giorni che si è andato a concludere qui concludendo anche un trimestrale corto da 65 giorni. Io questa view la tengo in considerazione solo nel momento in cui assisteremo ad un rimbalzo quindi ad un rialzo al di sopra di questo livello quantomeno cioè quindi la zona dei 60 mila dollari circa dovrebbe essere per essere precisi 59 mila questa parte qui che tra l'altro funge anche da incrocio di quella che è una media mobile importantissima quella blu che vedete la 200 anche se su bitcoin funziona meglio la 274 ragazzi che adesso vi faccio vedere non è stata breccata perché sul 274 insomma trovate dei miei video dove parlo di questa media vedete qui ancora arretto la 274 perché bitcoin questo è lo spot quindi resta aperto anche i sabati e le domeniche quindi bisogna aggiungere alcuni dati mentre invece la 200 classica sullo spot è stata breccata però io questa la considero tanto e non quanto quello che è molto più importante sono le due medie mobile la 11 e la 21 che utilizziamo ormai da 4 anni le mie preferite insomma in queste fasi cicliche che sono ancora in fase completamente ribassista e quindi non c'è nessuna vicinanza di bitcoin a questo livello quindi deve prima arrivarci poi breccarle quindi prima di ragionare e dire che su questo livello di minimo si è iniziato un nuovo mensile dobbiamo assistere a questi movimenti importanti al momento la soluzione più classica e la più comune è quella che qui siamo in un mensile corto di un movimento di natura ternaria che teoricamente deve ancora chiudere con un minimo o un doppio minimo tutto il livello del ciclo trimestrale ciclo trimestrale che è diventato ribassista per quanto riguarda bitcoin e quindi da un punto di vista tecnico è sufficiente per andare a concludere definitivamente l'annuale corto di bitcoin ciò significa che da questo punto in poi quando questo movimento sarà finito potremmo aspirare ad avere un atteggiamento diverso di bitcoin potrebbe anche iniziare con un trimestrale in barra di congestione ancora una volta però sostanzialmente l'inizio di un nuovo trimestrale darà affiato un nuovo annuale e poi da lì bitcoin ha solo un obiettivo andare a rompere i massimi storici se non ci riesce ai ai le cose si complicano e dovremmo parlarne nei prossimi mesi ragazzi ma certo è che comunque questa fase era assolutamente attesa eravamo nei termini giugno luglio siamo perfettamente in quei termini ancora siamo all'otto di luglio settimana prossima dovrebbe essere quella chiave per assistere a questo movimento se bitcoin vuole fare un leggero anticipo tenterà magari una fase di alzista per poi andare a fare un piccolo ribasso e ripartire in queste fasi la soluzione migliore almeno dal mio punto di vista è sempre quella di cercare dei livelli di buy poi nei prossimi giorni perché al mio avviso è molto più facile nelle prossime settimane quindi verso la fine di luglio in poi assistere a un movimento di recupero quanto meno di alcuni livelli come potrebbero essere per esempio i 64-65 mila dollari poi da qui c'è un punto interrogativo però meglio esserci su un carro che ha tutte le carte in regola ve lo ripeto per poi andare a ricercare la rottura dei massimi storici perché il nuovo annuale lancerebbe anche la possibilità di bitcoin di fare nuovi massimi attenzione non è l'unica strada come sempre perché qualora questa cosa non avvenisse dovremmo prendere in costituzione altre tipologie di scenari che a quel punto analizzeremo solo laddove bitcoin non riesca appunto a fare questo tipo di atteggiamento al momento la soluzione più classica più comune è la chiusura di questo trimestrale che vi ripeto è ribassista chiudendo il trimestrale ribassista chiude anche un annuale con grande tranquillità quindi ha tutte le carte regole delle tecniche cicliche di quelli che sono le teorie e le regole matematico cicliche che si applicano in questa tipologia di analisi perciò nulla vieta bitcoin poi di riprendere a livello di swing operativi siamo veramente in una situazione di una facilità enorme perché questo trend ribassista è stato dipinto ha avuto solo uno spunto rialzista qui per poi riatterrare male in malo modo perciò significa che al superamento già dei 59-60 mila inverte un trend e dà lo spazio all'inizio sicuramente di un nuovo ciclo mensile e poi il superamento di area 64-65 indicherebbe con grandissima probabilità all'inizio di un nuovo trimestrale in maniera definitiva e chiaramente anche l'inizio di un nuovo movimento che dovrebbe essere a quel punto semestrale e quindi nuovo annuale per questo ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi video ragazzi vi avevo promesso un video veramente breve perché oggi sono di corsa ma volevo essere comunque con voi lasciatemi i pollicioni per questi video in diretta veramente in mezzo al mondo per le vie e lasciatemi anche e iscrivetevi anche al canale se non lo avete ancora fatto fatemi sapere cosa ne pensate di questa fase di recupero secondo voi resisterà questa fase di recupero oppure ai giorni contati e tra pochissimo ritorniamo a scendere fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo nei commenti ciao a tutti ci rivediamo mercoledì grazie a tutti grazie a tutti